In un convegno medico tenutosi a Campobasso si è evidenziata l'importanza della vaccinazione, questa volta quella anti-influenzale. Il vaccino è arrivato ed è in corso la preparazione per questa campagna vaccinale, fondamentale innanzitutto per persone fragili e a rischio, ma non solo. Ce ne parla la dottoressa Carmen Montanaro, direttrice del Dipartimento Unico di Prevenzione ASREM di Campobasso. A margine del convegno, vaccino anti-influenzale, il valore delle evidenze. La vaccinazione anti-influenzale di cui abbiamo parlato oggi, il vaccino è arrivato, siamo in corso di preparazione per questa campagna vaccinale, la vaccinazione anti-influenzale è importantissima perché ci protegge dal virus dell'influenza che è pericolosissimo sia per le persone sane che per le persone malate e il Ministero ha dato delle indicazioni chi vaccinare gratuitamente. Naturalmente ci sono delle fasce di età a cui è concessa la vaccinazione da sei mesi a sei anni e poi gli over 60, gli over 64. Naturalmente abbiamo dei vaccini innovativi, quali il vaccino quadrivalente e vari tipi di vaccino, quali i vaccini inattivati, i vaccini ad alto dosaggio, i vaccini coltivati su cellule umane, oppure i vaccini coltivati su uova embrionate di pollo, per cui praticamente avendo a disposizione tanti vaccini abbiamo la possibilità di fornire l'immunizzazione gratuita a tutti i soggetti, sia i soggetti sani che ne hanno necessità per via del lavoro e per via dell'età, e anche i soggetti che sono fragili e hanno delle patologie di base.